L'unico programma realmente di sinistra, si presentano così le liste di unione popolare con Luigi De Magistris che stamani hanno illustrato i punti cardine della propria campagna elettorale. La nostra lista è l'unica che chiede la fine di questa orrenda guerra in Ucraina e quindi siamo contrari all'invio delle armi italiane in Ucraina. Noi chiediamo che l'Italia esca fuori dalla Nato, siamo contrari alle sanzioni verso la Russia che si sono rivelate un pesantissimo boomerang per la nostra economia e chiediamo che tutte le risorse invece dello Stato vengano investite là dove servono e quindi innanzitutto per bloccare gli aumenti vergognosi delle bollette, lo abbiamo denunciato per mesi, e diciamo anche dove andare a prendere le risorse perché noi chiediamo che vengano tassate al 90% le rendite delle grandi multinazionali dell'energia elettrica e del gas che hanno lucrato finora. Centrodestra e centrosinistra che ci hanno massacrato a livello sociale con il governo Draghi e ancora oggi ripropongono l'agenda Draghi che è l'agenda dettata da Confindustria, dalle grandi lobby economico-finanziarie. Noi invece abbiamo un'agenda chiara, l'agenda Robin Hood. Chi ha più di un milione di euro deve pagare più tasse e investire i soldi invece dare soldi chiaramente alle lavoratrici e ai lavoratori disoccupati a aumentare le pensioni minime. Obiettivo principale è superare la soglia del 3% per garantirsi una rappresentanza in Parlamento che possa fare da opposizione a centrodestra e centrosinistra. Particolare attenzione ai giovani in riferimento a tematiche quali scuola, lavoro e ambiente nelle parole della giugliese Alessia Mazzagufo, candidata nel listino della Camera alle spalle del capolista Maurizio Acerbo. Parliamo di contratti beceri in cui non si può chiedere a un ragazzo di lavorare 18-20 ore, pagarlo con un contrattino regionale, non dargli uno straccio di contributo, negargli ogni tipo di bonus e diritto alla disoccupazione. Stop la legge Fornero sulle pensioni. Non possiamo pretendere che nel nostro paese, noi giovani, cambiamo sulle spalle di mamma e papà fino ai 70 anni perché appunto non riescono a percepire uno straccio di pensione. Sosteniamo l'ambiente perché è giusto parlare di plastic free, questo lo diremo sempre, ma è giusto anche dire che comunque non possiamo rovinare il suolo adibendolo sempre più a cementificazioni e a costruzioni. Noi siamo per un'energia di tutti, pubblica e non privata, e siamo per un'energia strettamente circolare e rinnovabile.